Papa Francesco ammette abusi sessuali su suore da parte del clero. Il Papa Francesco ha ammesso pubblicamente che alcuni chierici della Chiesa Cattolica hanno abusato sessualmente delle suore e in un caso hanno addirittura tenuto alcune di loro come schiave sessuali. Queste dichiarazioni, fatte durante un'intervista durante il suo storico tour nel Medio Oriente, segnalano una rara ammissione di abusi sessuali all'interno della Chiesa da parte del Papa. Il Papa ha dichiarato che il problema dell'abuso sessuale delle suore è radicato in una società che spesso considera le donne come cittadini di seconda classe. Ha sottolineato che la Chiesa è al corrente di questa situazione e sta cercando di affrontarla, con alcuni chierici sospesi a causa delle loro azioni. L'abuso sessuale delle suore da parte del clero è stato un problema noto all'interno della Chiesa, ma questa è la prima volta che Papa Francesco lo ha riconosciuto pubblicamente. Ha anche menzionato che suo predecessore, Papa Benedetto, ha chiuso una congregazione di suore in cui erano stati commessi abusi sessuali, compresa la schiavitù sessuale. Il Papa ha affermato che questo tipo di abusi persiste principalmente in alcune congregazioni più recenti e ha, sottolineato che affrontare completamente il problema richiederà tempo. È importante notare che non si tratta del solo caso di abuso sessuale all'interno della Chiesa. Negli ultimi anni, sono stati resi pubblici numerosi casi di abusi sessuali su minori e giovani da parte del clero, e la Chiesa ha dovuto affrontare gravi scandali in tutto il mondo. Questa ammissione del Papa arriva in seguito alle denunce delle suore stesse che hanno sottolineato la cultura del silenzio e della segretezza che impedisce loro di parlare. Molte di queste donne sono state costrette a subire abusi sessuali, alcune addirittura costrette ad abortire figli concepiti con preti, il che è vietato nel cattolicesimo. La rivista femminile del Vaticano, Women Church World, ha condannato gli abusi e ha sottolineato che il movimento cancelletto Me Too ha spinto più donne a denunciare le proprie storie di abuso. La direttora della rivista ha sottolineato che è ora necessaria un'azione concreta da parte della Chiesa per affrontare questo problema diffuso. Queste recenti dichiarazioni del Papa pongono l'attenzione su un problema serio all'interno della Chiesa cattolica e sollevano domande sulla necessità di misure più drastiche per affrontare l'abuso sessuale e creare un ambiente più sicuro e rispettoso all'interno della Chiesa stessa.